C'erano anche gli atleti dell'Associazione Sportiva Gelese Orizzonte al Liceo Classico Giovanni Meli di Palermo per la giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down, per raccontare le loro esperienze e le loro emozioni. Attraverso i racconti dei protagonisti nella tappa Special Sport Day di Palermo, si è voluto dimostrare che è possibile spezzare i pregiudizi nei confronti dei soggetti disabili. Moltissimi gli atleti gelesi pluripremiati che hanno conquistato negli anni medaglie in diverse competizioni nazionali ed internazionali che hanno potuto interagire con gli studenti del Liceo Classico del capoluogo regionale. I nostri campioni erano accompagnati dai volontari Silvana Palumbo, Gianfranco Cassarino e Laura Salucci. Le esperienze raccontate dai nostri atleti, ha dichiarato il presidente dell'Associazione Orizzonte Natale Salucci, hanno entusiasmato gli studenti con la speranza che queste iniziative possano contribuire a cambiare atteggiamento nei confronti delle persone con disabilità. Il programma di Special Olympics, continua Salucci, ha dimostrato che ciò è possibile attraverso lo sport per raggiungere l'ambito obiettivo della completa inclusione sociale.